Una reggia per l'industria alle porte di Roma. L'onorevole Cervone visita la zona industriale romana che occupa una vasta area tra le vie Prenestina e Tiburtina. E il dottor Telesio gli fa da guida attraverso i reparti di uno dei più attrezzati stabilimenti. Qui si lavora invece per la rinascita e il potenziamento dell'agricoltura italiana. E il conte Giuseppe Fiorentini illustra al sottosegretario all'industria il ciclo di produzione del suo vasto complesso. Migliaia di televisori escono da un'altra delle fabbriche sorte nella zona. Il presidente della società, dottor Piccinini, accompagna l'onorevole Cervone e ha modo così di seguire da vicino le varie fasi del lavoro di montaggio. Anche i dischi hanno trovato uno spazio vitale a pochi chilometri dalla capitale. Il dottor Ornato accoglie l'ospite d'eccezione interessato all'attrezzatura delle sale di sincronizzazione.